e ben ritrovati ultimo capitolo di crimini e criminologia ricordiamo sempre potete inviare i vostri messaggi al 334 92 29 505 sms whatsapp stasera avete scritto veramente in tantissimi e allora andiamo a voltare pagina rispetto al caso pifferi e al delitto dell'armadio andiamo a un altra nostra rubrica italia in giallo e nero anche se i fatti non sono si sono verificati in italia ma hanno riguardato un italiano vediamo anche il titolo che prende spunto dal libro della persona che ora vado a presentare un innocente intrappola nel 2006 deputato alle elezioni per la quindicesima legislatura della repubblica italiana fu eletto all'estero per la circoscrizione europa visto che nell 89 viveva ad atene dal 2017 a bruxelles in precedenza nel 2005 l'allora ministro per gli italiani nel mondo mirko tremaglia lo nomina rappresentante in grecia per la confederazione degli imprenditori italiani nel mondo nel 2008 invece su proposta del ministro degli esteri franco frattini diventa membro del direttivo della conferenza dei giovani italiani nel mondo fondatore ed ex presidente della confederazione degli imprenditori italiani in europa insomma imprenditore e politico ma una storia di errore giudiziario alle spalle incredibile che ora ci va a raccontare buonasera al dottor massimo romagnoli benvenuto a crimine criminologia ben trovati tutti voi buonasera e sono felice di essere insieme a voi vi ringrazio comunque della di avermi ospitato anche perché ho messo nella presentazione spero sia giusta tutto quello che ho narrato che è candidato alle elezioni europee con alternativa popolare che non a caso ci ci fa il collegamento dalla macchina perché in piena campagna elettorale quindi la tratteniamo poco poi la lasciamo al suo incontro elettorale però in collegamento c'è anche la dottoressa fabbroni che poi approfondirà cosa subiscono coloro che sono vittime di errori giudiziari lo faccio raccontare a lei l'errore giudiziario che poi è narrato in questo libro che vediamo abbiamo anche la copertina a proposito di un innocente in trappola e allora massimo romagnoli raccontiamo la sua incredibile storia allora nel dicembre 2017 vengo chiamato al telefono da dei miei amici e dicendomi che c'erano dei problemi con i passaporti in montenegro ed essendo proprio amici e consulenti perché quel momento io ero un consulente di eleni armacchi del gruppo fin meccanica e sono andato in montenegro a cercare di aiutare questi miei amici invece era una telefonata trappola dove all'aeroporto vengo arrestato e vengo arrestato per una accusa incredibile di terrorismo internazionale e traffico di armi non vi nascondo che pensavo in quel momento che fosse che indicano a un gioco di candy camera invece non lo era assolutamente a parte il cerco cerco successivamente di chiamare l'ambasciata mi viene neccato di avere un avvocato e mi viene neccato e il giorno dopo vengo in qualche modo portato in tribunale e scaricato nella carcere di potgorizza dove resto in cella di isolamento per 71 giorni dopo 71 giorni quando il professor nicola pisani il mio regale in italia insieme all'avvocato dillo cortassa cercavano di fare il trasferimento in italia in quanto cittadino italiano loro non appena abbiamo fatto la richiesta a strasburgo immediatamente alle 6 del mattino mi mi caricano su un aereo privato della dea e mi portano a new york subito dopo vengo condannato all'ergastolo successivamente a questa condanna grazie all'avvocato alessandra de blasio riesco ad ottenere una riduzione a 15 anni e dopo sono stato assolto tutto questo in 41 mesi e dopo l'assoluzione c'è stato anche il risarcimento d'anni se vuole posso entrare nei dettagli mi chiederei non capita tutti i giorni insomma di parlare con chi ha vissuto più di 70 giorni di carcere in isolamento peraltro nel contesto di una clamorosa disavventura e potenzialmente di una tragedia giudiziaria le chiedo cosa ricorda di quei giorni e se ne parla si affronta questo tema sicuramente anche molto interessante e nuovo per vari lettori nel suo libro allora innanzitutto il comportamento scorretto delle delle guardie in in montenegro dove sono stato picchiato per 71 giorni in quanto non parlava in quanto non parlavo ma io non parlavo non perché dovevo coprire qualcosa io non parlavo solo ed esclusivamente perché e non sapevo nulla di nulla della motivazione della motivazione di questo loro complotto di questo di queste invenzioni che loro avevano su queste armi vendute alle parca in colombia non avevo la più pallida idea di cosa loro parlassero mi facevano vedere una fotografia mi facevano vedere dei bigliettini da visita miei erano miei erano miei bigliettini da visita ma io da politico do migliaia e migliaia di bigliettini da visita alle persone perché loro dicevano conosci questa persona io non la conoscevo questa persona ma come fa ad avere il tuo bigliettino da visita se conosci questa persona e poi mi hanno fatto vedere una fotografia insieme ad altre persone con questo tizio e io non conoscevo la persona perché in politica come adesso in campagna elettorale faccio 100 150 fotografie al giorno con migliaia di con migliaia di persone non posso ricordarmi di tu non posso ricordarmi di tutti il fatto sa che dopo questo trattamento da hotella 5 da hotella 5 stelle mi portano negli stati uniti negli stati uniti in america nel momento in cui loro capiscono che c'era la possibilità che io potessi essere trasferito in in Italia in questi giorni pensavo sempre a miei figli perché essendo padre di tre figli in quel momento erano 3 6 e 10 anni il mio stato d'animo non era non era forte poi continuavo sempre a leggere per evitare di non pensare sono stati momenti in cui ho riflettuto tantissimo su cosa io avessi mai potuto fare e non riuscivo a trovare una una ragione e quindi un momento di tristezza pregavo in continuazione ho trovato la mia fede in dio già ero credente ma oggi ancora di più dopo questa vicissitudine e non le nascondo che sono stati momenti che non auguro a nessuno neanche al mio più grande nemico o competitors elettorale di fare soltanto un giorno di quello che ho fatto io in montenegro e che ci crediamo veramente che poi in montenegro poi negli stati uniti e poi veramente una storia come un famoso film di alberto sordi detenuto in attesa di giudizio no un errore e in quei momenti immaginiamo possa passare veramente di tutto per la testa di una persona avevamo preparato anche qualche immagine delle forze armate rivoluzionarie della colombia le farc appunto questa organizzazione terroristica nel quale giro sarebbe rimasto coinvolto proprio massimo romagnoli e qui vediamo qualche immagine che vede protagonisti questi terroristi questa organizzazione terroristica a proposito dei bigliettini è chiaro no è veramente un errore incredibile volevo sentire prima di tornare da romagnoli rapidamente la dottoressa fabbroni da psicoterapeuta facciamo i complimenti a romagnoli perché sta anche benissimo diciamo nonostante quello che che ha passato no perché molte persone che si sono trovate magari nella stessa situazione hanno passato molti più problemi psicologici e se li sono portati per tutta la vita immagino no dottoressa certo assolutamente anzi davvero tutta la mia stima perché la determinazione la forza il coraggio e anche l'aspetto cioè lui ha riuscito a trasformare la disperazione in una risorsa e l'ha portata avanti nella sua vita questo ce lo sta dimostrando ma se andiamo a vedere anche il suo libro dove racconta quelli che sono stati quei momenti ci rendiamo conto quanta forza dentro di lui veniva comunque restava attiva nonostante lui veramente fosse entrato all'interno di questa trappola in cui non riusciva a comprendere che cosa stesse accadendo forse l'ha tenuto veramente vivo attivo i tre figli e la famiglia il coraggio stesso comunque di mantenere fede alla sua posizione e al fatto stesso di credere a se stesso perché lui non aveva assolutamente commesso nulla quindi ha combattuto per questo ecco questo è un esempio secondo me importantissimo anche perché purtroppo la mala giustizia oggi sappiamo quanto può ricadere nella psiche nel corpo e quanto può portare anche a situazioni proprio di malattia sono molto contenta che comunque davvero è un esempio per tutti quanti tutte le persone che comunque incappano in situazioni di questo genere ma lui ce l'ha raccontato dalle sue prime parole che cos'è che ha fatto la differenza il fatto comunque di avere dentro di sé questa grande capacità di mantenere fede alla sua identità di persona e alla alla sua personalità quello che è lui come persone a sapere quello che veramente ha fatto non ha fatto lui non si è fatto toccare da questo ma ha combattuto nonostante comunque aver vissuto dei momenti terribili infatti sono perfettamente d'accordo con la dottoressa fabbroni ogni catastrofe giudiziaria sventata è un successo per la civiltà e torno da massimo romagnoli perché nel momento del suo arresto sono stati tratti in arresto in montenegro anche altri due cittadini originari se non erro della romania quindi entra in gioco ancora un'altra nazionalità come forse lei in apertura accennava vorrei chiederle diciamo se siete stati tradotti presso gli stessi istituti carcerari se in qualche modo il loro percorso poi è stato analogo al suo oppure se nell'immediato vi siete persi di vista anche nel contesto appunto di queste continue ripetute intimidazioni di cui lei prima parlava no sì eravamo nello stesso carcere in Podgorice però in settori separati e poi ci siamo ritrovati a New York con loro due e poi lì ho capito praticamente che uno di loro due era un agente sotto copertura i quali praticamente ancora oggi davano delle notizie davano delle notizie alla DEA su droga, terrorismo e così via e in qualche modo mi hanno venduto perché loro hanno preso 775 mila dollari per dare delle notizie false sul mio comportamento, era questa sulla mia storia, infatti io in quel momento lavoravo per Alenia a Ermacchi vendevamo aerei da combattimento però io personalmente non ho mai venduto armi a nessuno loro invece l'informazione che passavano agli americani era quella che io vendevo armi alle FARC questo è stato il problema principale e loro hanno creduto alla loro storia inizialmente poi grazie alla riapertura del caso, grazie ad Alessandra De Blasio siamo riusciti a riaprire il caso e io a poter parlare con il procuratore quando sono riuscito a parlare con il procuratore il primo appuntamento è stato terribile perché mi hanno incappucciato mi hanno messo le manette ai piedi e alle mani però era normale, una prassi normale infatti non mi lamento perché hanno fatto questo mi lamento che è stato un momento tragico perché arrivare per la prima volta da un procuratore in quelle condizioni non mi è sembrato così molto logico e quando sono andato a stringergli la mano al procuratore il procuratore mi disse che non poteva stringere la mano ad un terrorista ho detto vabbè non ci sono problemi e l'ho affrontato serenamente quando all'inizio lui lo stesso mi disse Romagnoli io non so perché lei ha voluto parlare con me perché lei si deve mettere in testa che dagli Stati Uniti d'America uscirà in orizzontale anche lì non mi sono perso d'animo mi è scappato un sorriso ho detto però possiamo parlare e lui mi ha detto why not perché no e lì ho cominciato a spulciare i capi d'accusa dove loro mi accusavano che io nel giugno del 2014 ero stato in Ucraina a trasportare due container di armi per la Farc in Colombia che a settembre avevo trasportato dei container di armi dal Belgrado alla Colombia e naturalmente io gli dissi a loro mi sono messo a ridere dicendogli allora davanti a voi avete una persona che ha girato il mondo ma guarda caso in Ucraina non c'è mai stato e siccome non è un paese dell'Unione Europea ci dovrebbe essere nel passaporto un timbro di entrata e di uscita di questo stato a Belgrado invece ci sono stato più volte ma mai nel 2014 e grazie a Dio siccome non è un paese dell'Unione Europea ci deve essere il timbro di entrata e di uscita del passaporto vedrete che non c'è questo passaporto perché io non sono mai stato in quel periodo in questi stati e poi come terzo punto mi adducete come pretesto che io abbia una fabbrica di armi a Wiesbaden in Germania e vi dico ma cortesemente ma mi potete dare anche l'indirizzo perché se c'è questa fabbrica ci dovrebbe essere anche un indirizzo anche su Google no? si può trovare facilmente quindi il procuratore ha firmato un mandato d'arresto da premettere che oggi il procuratore è uno dei miei più cari amici tra virgolette perché ha capito l'errore che ha fatto e ci siamo anche visti lui ha voluto conoscere i miei figli perché ha saputo quanto io ho sofferto soprattutto per uscire dal carcere facciamo un passo indietro quindi nel momento in cui io gli contrabbatto tutte e tutte le loro accuse lui mi ricordo ancora il suo viso diventa rosso in faccia e guardando gli agenti della DEA sospende l'incontro dicendomi lei è italiano? si sono italiano e orgoglioso di esserlo se gli faccio rara una pizza italiana e una Coca Cola americana e ci vediamo tra 20 minuti perché io ho un briefing con questi due signori che erano gli agenti della DEA che mi avevano arrestato dopo 20 minuti lui non ritorna dopo 2 ore, 4 ore io ero l'uomo più felice del mondo perché avevo capito finalmente di averli messi in difficoltà mi incappucciano nuovamente io felicissimo ritorno in carcere questa volta nella mia cella e poi il giorno dopo c'è Alessandra de Blasio che era contenta di come era andata la giornata dopo circa un mese ritorna Alessandra de Blasio in carcere dicendomi che il procuratore mi vuole riparlare e io gli faccio una classica battuta dicevo I go home vado a casa e lei mi dice non vai a casa ancora però è positivo perché non è facile che un procuratore senta un deputato un deputato un detenuto due volte per la stessa cosa e stavolta mi riportano dopo qualche giorno dal procuratore però senza cappuccio sempre con naturalmente le manette ai piedi e le mani come da regolamento e non appena mi slegano davanti a lui stavolta lui a stringermi la mano a me e io gli faccio una battuta I am not terrorist non sono più un terrorista e lui mi dice non lo so ancora però vediamo facciamoci una bella discussione e mi fa un interrogatorio di nove ore e quel giorno ha portato anche all'interrogatorio due psicologi dalla Casa Bianca e dopo l'interrogatorio lui è rimasto molto contento di come siano andate le cose abbiamo pranzato insieme abbiamo scherzato anche su alcune cose su alcuni suoi viaggi in Italia e così via è stata una persona completamente diversa dal primo incontro dopo questo incontro io naturalmente mi rianimo un po' e dopo circa 45 giorni ancora mi richiama viene Alessandra De Blasio l'avvocato in carcere e là mi dice che c'è il procuratore che vuole parlare per la terza volta io naturalmente gli chiedo ancora una volta go home vado a casa e stavolta mi dice may be yes sul may be yes io l'abbraccio e lì in carcere non puoi abbracciare gli avvocati e mi prendono dal colletto e mi sbattono in cella di isolamento però ero così felice perché avevo capito che le cose stavano andando per il verso giusto mi vengono a prendere in carcere gli agenti speciali della procura e stavolta non mi portano in camionetta ma mi portano in una macchina in una macchina privata dicendomi che mi mettevano soltanto una manetta non tutte e due perché il procuratore aveva il piacere di fargli girare la città di New York prima di portarli in procura e quindi con questa macchina io ho avuto diciamo così il piacere dopo tanto dopo tanti mesi erano già passati circa due anni di girare un pochettino New York anche in macchina ma col finestrino aperto non appena arrivo in procura il procuratore mi chiede mi invita a pranzo e io gli dico e dove andiamo con questa bella tuta arancione a downtown e mi farò questo non è un suo problema questo è un problema mio se lei rifiuta sicuramente non è un problema e non succede non succede nulla se vuole io sono disposto ad andare a pranzo con lei e io ho detto andiamo mi porto in una stanza dove avevano un abito su misura per me come piaceva a me camicia bianca abito blu cravatta cravatta blu e mi mettono il braccialetto elettronico e andiamo in un ristorante italiano e in questo ristorante il procuratore mi dice io vorrei mandarla da due suoi figli forte per quanto sono naturalmente la lacrima la lacrima scappa e comunque però prima lei deve sapere perché io l'ho arrestata perché ho firmato il mandato di arresto e mi dà un cd e il direttore del carcere sa che può andare nel suo studio a visionarlo quando lei crede e così ho fatto e da lì ho capito che i miei amici rumeni mi hanno venduto e praticamente dando a loro delle notizie false dicendo Flavio dove sei sono con Massimo in Ucraina e stiamo caricando dei container di armi per le FARC Flavio dove sei ci troviamo a Belgrado e stiamo caricando delle armi con Massimo per le FARC in Colombia e così queste erano le loro prove quindi non avevano delle prove reali ma avevano delle intercettazioni telefoniche non mie ma verso altre persone che portavano a me e poi invece quando loro hanno capito l'errore mi hanno portato in un carcere low security dove avevamo campo da golf campo da tennis basket calcio diciamo che l'ultimo anno e mezzo è passato tranquillamente potevo parlare tutti i giorni con i miei figli facevo il professore di matematica all'interno cercavo di essere sempre occupato poi lì all'interno sono riuscito a prendere due master con Howard perché il sistema delle carceri americane è un sistema importante dove danno la possibilità del reintegro in società molto professionale e così ho cercato di sfruttare il mio tempo con tutte queste opportunità che loro davano poi sono stato riportato a New York dove sono stato dichiarato innocente e scalzionato da tutte le accuse in quanto unconnected due to the fact non ero connesso ai fatti e da allora sono ritornato in Italia e ho ricominciato la mia vita da zero e oggi sono un imprenditore e un politico e allora chiudendo proprio questo discorso appena sarà a Roma una domenica la vogliamo ospite in studio in presenza per approfondire perché abbiamo dedicato tante puntate agli errori giudiziari italiani ma questo è molto particolare quindi ci teniamo veramente quindi ci sentiremo poi per un'altra puntata intanto in bocca al lupo e buona campagna elettorale grazie vi ringrazio una buona serata a tutti voi grazie per l'invito e dell'opportunità e grazie a presto ci tengo che viene qui in studio a raccontare questa storia approfondirla perché avevo tante altre domande ma siamo andati lunghissimi grazie anche alla dottoressa Barbara Fabroni grazie a voi buonanotte dobbiamo chiudere grazie a Gabriele Rao grazie a te Fabio Camillacci e grazie a Lorenzo Guidotti Manuel Mazzei Daniele Petrosemolo tanti problemi non sono dovuti a loro ma abbiamo avuto problemi proprio di linea e di supporto di elettricità diciamo così quindi vi chiediamo scusa crimine e criminologia torna domenica prossima buonanotte grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.